Damiano, Presidente della Commissione Lavoro di Montecitorio. Sergio Mattarella, che tipo di Presidente della Repubblica state per eleggere? Mi pare che sia una persona che ha qualità, sia sotto il profilo morale, sia sotto il profilo politico, anche una competenza, è stato pluriministro, quindi è indiscutibile il suo profilo. Credo che abbia anche la possibilità di unire sicuramente il Partito Democratico. Mi auguro che altre forze ovviamente lo sostengano, come è già stato dichiarato. È chiaro che questa candidatura, come si dice, rompe il cosiddetto patto del Nazareno. Però devo dire che anche Berlusconi si è mosso, secondo me, in modo negativo, perché quando si pongono troppi veti, di veti si muore, nel senso che il no a Prodi, il no a Mattarella, il no ai segretari del PD che arrivano dall'esperienza del Partito Comunista, praticamente è come dire che brucio tutte le potenziali candidature. Questo ha fatto buon gioco a Renzi per fare una proposta così. È un po' paradossale fare le riforme con il Partito Democratico e poi non votare insieme. Questo è un paradosso, ma la domanda va rivolta a Berlusconi, ancora più va rivolta al nuovo centrodestra che anche è al governo. Berlusconi, tutto sommato, è all'opposizione. Chi sta al governo, immagini lei un nuovo centrodestra che non partecipa al voto, il cui segretario è pure ministro degli interni. Il ministro degli interni non partecipa al voto per eleggere la presidenza della Repubblica. Mi sembra una cosa abbastanza complicata. Grazie. Grazie. Grazie.